E' davvero incredibile, quella del Napoli è una delle strisce positive più lunghe, importanti mai messe insieme in una Serie A con 20 squadre. Eppure gli azzurri, nonostante questo, non riescono ad allungare in classifica. L'Inter infatti staziona sempre a meno due, continua a vincere. Insieme al Napoli, Icardi e Soci sono ancora imbattuti dopo il 2-0 con l'Atalanta. Ora però per gli azzurri di Sarri, testa alla Champions League. C'è da battere infatti lo Shakhtar per cambiare le sorti del girone e provare a qualificarsi. In Serie B, amarezza per la Salernitana che accarezza la vittoria che l'avrebbe spinta verso l'altissima classifica, cioè a meno due dalla vetta occupata da Bari e Parma. Invece Arini della Cremonese ha scompigliato le carte. Il gol del centrocampista ex Avellino ha lasciato le cose inalterate rispetto alla vigilia. Salernitana che comunque mette insieme con questo pari il dodicesimo risultato utile e consecutivo. Certo, i tre pareggi di fila hanno rallentato un po' la corsa in vetta con la vittoria che manca dalla gara con l'Empoli. Prossimo turno insidioso col Cittadella in esterno. Derby di Coppa con la Juve Stabia per la Paganese domani pomeriggio. Un derby è sempre un derby e agli azzurro stellati servirà anche per mostrarsi in ripresa rispetto alle ultime uscite. Il pareggio in campionato interno con il Fondi deve rappresentare soltanto l'inizio di una ripresa per la squadra di Mister Favo che comunque domani darà spazio a qualche elemento che finora ne ha avuto di meno per mettersi in mostra in campionato. Sette vittorie consecutive per la Cavese che continua a stupire in Serie D e di fatto ha riaperto il campionato nel girone H dove il Potenza rimane una Potenza ma è bastato un mezzo passo falso dei Lucani 3-3 col Gravina al Viviani con gol dei Pugliesi però al 96esimo per riaprire i giochi. Ora i punti di distacco della Cavese dalla capolista sono soltanto 4. Il gol di Fella nella partita col Taranto ha regalato 3 punti importantissimi ai Metelliani 21 su 21 nelle ultime 7 partite giocate e la Cavese spera davvero di poter sorprendere ancora. Va male invece alla Sarnese alla quinta sconfitta consecutiva. I Granata perdono anche con il Pomigliano e nonostante il cambio di allenatore da Gazzaneo a Condemi l'ex Nocerina e Cavese Gerry Alfano segna infatti il gol della vittoria per il Pomigliano bravo a ribattere in rete un colpo di testa dopo un calcio d'angolo. Nel girone I invece clamoroso pareggio della Nocerina che proprio non riesce a mettersi dentro in classifica per quanto riguarda il comando con il Troina che prende il volo e i Molossi che riescono solo a pareggiare in rimonta sul campo della Cireale. Siciliani in vantaggio 2-0 poi le reti di Russo dopo un papocchio della difesa acese e quindi il pareggio di Manzo sottoporta ma questa Nocerina continua a non convincere.